Perchè dalle riprese pare che il rigore non ci fosse. Abbiamo disputato una grande partita, ci siamo trovati in inferiorità numerica, ritengo per una eccessiva valutazione dell'albitro. Poi il secondo tempo ci siamo messi a contenere un attimino una squadra che è preparata e attrezzata per fare il salto di categoria. Noi ritengo che dobbiamo avere un plauso, un plauso perché ho avuto 10, 11, 12, 13, 14 leoni. Una squadra di carattere, una squadra che merita di stare in questa categoria e di dire la sua fino alla fine. Io non ho visto il rigore, sto alle immagini, sono rispettoso di quelle che sono le scelte arbitrali. Ritengo che oggi la partita, se fossimo stati 11 contro 11, sarebbe stato difficile per il Castrovillari raggiungere il pareggio. Intanto vi faccio i miei complimenti perché finalmente si è riuscito a far quadrare il cerchio. Sta avendo questo reggio mediterraneo che rispecchia il carattere di anni calcetori. Aggressività, cuore, carattere, muscoli e perché no, anche un discreto gioco. Sì, oggi era una partita da prendere con le pinze perché questa era una squadra che da tante giornate non perdeva. È una squadra di giocatori di categoria superiore. Noi ci abbiamo messo il cuore, siamo stati bravi a contenere, siamo stati bravi quando c'era da andare ad affondare. Nel secondo tempo è stata una partita di sacrificio. Siamo andati anche sul doppio vantaggio, poi per qualche negligenza nostra non voglio commentare il rigore perché se no sto male. Perché a due minuti alla fine del tempo di recupero, se non è rigore quello, allora vuol dire che abbiamo perso due punti. Io mi rammarico ma con questo voglio fare un applauso ai miei ragazzi perché si sono dimostrati davvero dei ragazzi eccezionali. Non ho nulla da rimproverare e mi tengo stretto a questo punto come mi terrei stretto anche se fosse venuta la vittoria. Allora Francesco, con lo scale e con l'Acri si è stato riagguentato negli ultimi minuti. Qui a Reggio Calampia riagguanti la partita all'ultimo minuto al primo di recupero. Anche se tardivamente credo che il vento stia cambiando? No, questo non lo so se il vento stia cambiando perché detta così potrebbe sembrare come aver rubato un punto. Io ritengo che riconoscendo grande merito alla Reggio Mediterranea che si è battuta con capabilità e ha giocato un tempo in inferiorità numerica, ritengo che la mia squadra abbia dominato in lungo e largo. Abbiamo secondo me il solito problema, insomma facciamo fatica a concretizzare sotto porta. Questo è il motivo per il quale abbiamo secondo me rimesso, sì abbiamo rimesso due punti anche se contro lo scaleo obiettivamente e la maniera, averla recuperata nel finale dopo averla sbloccata a dieci alla fine ti ha lasciato una mare in bocca. Però dico che non era stata una partita brillantissima, contro l'Acri avremmo meritato di vincere sicuramente. Oggi credo che sicuramente il Castro Villari sul piano della prestazione, cioè faccio fatica, so benissimo che nel gioco del calcio se non butti la palla dentro e perdi il 2-1 sia una squadra che ha difficoltà, una squadra in crisi. La verità è che noi cerchiamo sempre di giocarla, di giocare sempre, di dominare. Sicuramente non è facile quando non hai profondità, quando hai nuovi giocatori sotto palla. Siccome io credo che per certe cose, poi lo dissi la settimana contro lo scalea, magari c'è quando subisci il rete al 93, c'è poi quando lo fai, però quello che importa sono le prestazioni. Siccome io credo che non hai profondità, non hai profondità, non hai profondità, non hai profondità,